Ciao a tutti, vediamo in questo video top delle migliori frasi intriganti da dire a un uomo. In questo video voglio dire qual è il top delle migliori frasi intriganti da dire a un uomo. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Inoltre ti ricordo una cosa importante che è di entrare a far parte della community più grande d'Italia, la community più grande d'Italia per quanto riguarda amore, seduzione, crescita personale. Iscrivendoti gratuitamente ovviamente a tutti i miei canali Massimo Terramasco, questo crescita personale con Massimo Terramasco, felicità benessere con Massimo Terramasco e amore autostima con Massimo Terramasco. Iscrivendoti a tutti i canali avrai una grande possibilità, quella di entrare a far parte della community più grande, sia per numero degli iscritti che per attività e quindi fare nuove conoscenze. Con diverse attività che verranno proposte potrai fare nuove conoscenze e conoscere quindi persone nuove, sia che tu sia single, sia che sia impegnato, non importa, impegnata, comunque anche a livello di amicizia e tutto. Bene, veniamo al tema, il top delle migliori, top 5 delle migliori frasi intriganti da dire ad un uomo. Allora, la top 5, la prima è questa. Io, quando lui ti racconta qualcosa, ti dice qualcosa, ti racconta qualcosa di quello che ha fatto, tu ridendo io avrei fatto così e gli proponi qualcosa di un po' più trasgressivo, di un po' più, come dire, e questo serve per lanciargli una sfida da un lato e dall'altro lato per fargli vedere che comunque tu sei una donna intrigante, comunque tu sei una donna che sa quello che vuole, comunque tu sei una donna che ha delle caratteristiche positive, che non sei una donna che sa decidere, non sei una che non prende decisioni. Questo è veramente, veramente importante. Riuscire a comportarti in questo modo è veramente una cosa che gli dà subito un segnale, gli fa capire che sei una donna tosta, una donna che ha una sua grande e forte personalità. E gli uomini sono coinvolti molto dalle donne di personalità. La seconda migliore frase è quando ogni tanto lui magari se ti chiede di uscire tu gli dici di no, ah no guarda non posso martedì perché ho già degli impegni, dai poi ti faccio sapere. Rimanendo sul vago, non dicendogli perché non puoi, questo anche ti fa apparire come misteriosa ed è fondamentale, intriga molto, gli uomini sono molto intrigati dalle donne misteriose, dalle donne che non fanno capire, che lasciano un po' tutto nel vago. È una cosa molto molto interessante. Terza frase, top free, è una richiesta che puoi fargli e questa, ma quando eri piccolo che cosa sognavi, che sogni avevi, che desideri avevi. Ecco questa è un'altra frase molto molto importante perché lo fa tornare nell'infanzia, gli innesca una regressione e fa sì che automaticamente tu possa diventare veramente una donna importante per lui, tu possa diventare veramente una donna che può avere, diciamo, della capacità, una donna che può essere veramente, veramente attraente, può veramente attrarre. Un'altra, la quarta frase, è questa interessante anche per stimolare il desiderio, ma se tu fossi su un'isola deserta, che cos'è che ti mancherebbe di più? Riesci a capire un attimino quali sono i suoi desideri, perché messa così metaforicamente, comunque riusciresti a entrare in contatto con i suoi desideri profondi. Questo lo farà pensare a quello che desidera, perché in realtà quello che gli manca su un'isola deserta è quello che gli manca anche oggi, non ci saranno grandi difficoltà. E questo è veramente molto, molto intrigante, molto attraente come modo di fare per coinvolgere l'uomo che desideri. E la quinta frase è questa, detta in modo molto sensuale, sai che io potrei diventare il tuo miglior problema, perché crea un paradosso tra problema e attrazione. Quindi qua è molto importante come viene detta questa frase, deve essere detta in modo amiccante, in modo sensuale. Ecco, questo fa scattare dentro di lui un desiderio molto, molto interessante. Ecco, questo è il top 5 delle migliori frasi intriganti da dire a un uomo. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate, dove potrai farmi delle domande e io ti darò delle risposte precise. Inoltre ti ricordo che sul canale, di entrare a far parte della community più grande in Italia, per quanto riguarda amore, seduzione e crescita personale, iscrivendoti al mio canale Massimo Terramasco, al mio canale crescita personale con Massimo Terramasco, questo, al mio canale felicità e benessere, al mio canale amore e autostima. In questo modo potrai conoscere nuove persone, in modo totalmente gratuito, potrai partecipare a live e fare nuove conoscenze, quindi ti suggerisco di iscriverti a tutti e quattro i canali, entrando così a far parte della community. Bene, per questo video è tutto, e ti do appuntamento al prossimo. Ciao!